Si parla troppo spesso di film ad alto budget che hanno fatto un flop in quanto non hanno incassato il giusto, ma ragazzi quali sono quei film invece che sono costati veramente cifre irrisorie e che hanno incassato veramente tanto? Andiamo a scoprire quali sono i 5 film costati pochissimo che hanno veramente fatto un enorme successo al botteghino. Al numero 5 troviamo Halloween, la notte delle streghe del 1978. Il film è costato pensate soltanto 550 mila dollari, i più delle voci di corridoio parlano che per i costumi sia stato speso soltanto 100 dollari. Il film ha incassato quasi 70 milioni di dollari, circa 69 milioni erotti. Insomma, un enorme successo per un film che inizialmente nessuno dava per questo grande successo che poi è diventato. Un film che ha lanciato la carriera di John Carpenter e soprattutto quella della sua protagonista, ovvero Jimmy Lee Curtis, che dopo quel film ha avuto un enorme trampolino di lancio per raggiungere il successo che tutti conosciamo. Prima di Star Wars, George Lucas non era conosciuto ai più, infatti, il suo primo film, L'uomo che fuggì dal futuro del 1971. In seguito decise di cambiare completamente genere e creare American Graffiti, un successo inaspettato per il regista che poi diventò l'ideatore di Star Wars, in quanto il film venne a costare 750 mila dollari, soprattutto visto l'incasso incredibile che fece per l'epoca, ovvero 115 milioni di dollari. American Graffiti parla di un gruppo di ragazzi californiani che vissero nel 1960 e tra questi c'era un giovanissimo Ron Howard, un isperato successo, che però lanciò incredibilmente George Lucas. Il film che troviamo al terzo posto ha dell'incredibile. Comprate una telecamera portatile, assumete degli attori sconosciuti, un editor e degli sceneggiatori che sono in rampa di lancio e avete speso circa 15 mila dollari? Bene, questo è il costo della produzione del nostro numero 3 in classifica, ovvero Paranormal Activity del 2007. Incredibile, ma vero, questo horror è costato soltanto 15 mila dollari e ha incassato, pensate, ben 192 milioni di dollari. Un successo insperato in quanto il film era stato creato per gioco e per divertimento da parte di alcuni ragazzi sconosciuti. Pensate che le riprese sono durate solamente 7 giorni e in 7 giorni hanno creato un horror che è riuscito a sbancare i botteghini di tutto il mondo. Al numero 2 abbiamo un cult del cinema che con un milione di dollari ne ha incassati ben 224, ovvero Rocky. Il primo film della saga, infatti, ha costato soltanto un milione, vincendo ben tre Oscar e lanciando Sylvester Stallone, conosciuto da tutto il mondo, appunto, anche. Grazie e soprattutto al Rocky Balboa, che tutti abbiamo amato e continuiamo ad amare con altri film che arrivano e continueranno ad arrivare, dove vediamo anche indirettamente, come in Creed, l'ultimo film, il protagonista Rocky o comunque la sua ombra dietro questa incredibile saga. Un successo inaspettato e isperato per un giovane Stallone che è stato lanciato da questo incredibile film. E arriviamo al numero 1 nella nostra classifica, ovvero The Blair Witch Project. Il film del 1998 è stato prodotto con la spesa misera di 60 mila dollari, incassandone ben 248. 248 milioni di dollari per un cast sconosciuto e per una produzione, diciamocelo ragazzi, non è stata questo granché, ma il film obiettivamente è guardabile. E al tempo fu innovativo perché è stato il primo film fatto con un mockumentary, quindi un finto documentario, ambientato in questo bosco dove questi ragazzi venivano uccisi dalla strega di Blair. Insomma, il tipo di film che è riuscito da sfruttare il minimo del budget per il massimo del risultato è, come abbiamo visto, il genere horror, perché con Paranormal Activity e The Blair Witch Project sono stati i salti in avanti più incredibili e gli incassi più clamorosi a fronte di spese misere. Non c'è bisogno di un cast stellare o di una regia degna di nota per alzare, come si suol dire, qualche spiccio. Quindi ragazzi, obiettivamente non saranno dei film, questi grandi film da premio Oscar, ma la produzione paga e soprattutto le tasche sono piene. La Blue Mouse con Paranormal Activity ha iniziato questa sua grande produttività e tutti abbiamo apprezzato il film, che poi gli altri della saga magari non saranno un granché, ma il risultato ha pagato soprattutto gli azionisti. Io vi ringrazio e se vi è piaciuta questa nostra top 5 dei migliori film che hanno incassato di più al fronte di un budget misero, fatecelo sapere con un commento e consigliateci quali altre classifiche vorrete vedere in futuro e noi ve le proporremo. Fateci sapere cosa ne pensate di questo video, io vi ringrazio per avermi seguito sin qui, sono Valerio Perrone, questa è Ciaccazione, seguiteci sui nostri social, come in descrizione trovate il link che vi riporta a tutti i nostri canali. Ciao a tutti, da Valerio Perrone e Ciaccazione.